Quando la Padula e Donnarumma non segnano le partite finiscono 0-0, questo è il segnale di una solidità di questo teramo, ma è anche la fragilità di una squadra che quando avete le polveri bagnate voi due non riesce a vincere. Sicuramente gli attaccanti in quasi tutte le squadre comunque sono quelli che devono fare i tap-in. Domenica io ne ho avuti due, non siamo riusciti a farli, però non penso che in questa squadra ci sia una dipendenza dalla Padula e Donnarumma, l'avevo già detto quando facevamo gol, quando non lo facevamo, quindi la squadra è ben solida. Comunque a scanso di equivoci, forse è meglio che contro la Spal ricominciate a segnare così. Sicuramente deve tornare a segnare il termo perché vuol dire che fa punti, non la Padula e Donnarumma, però sempre attraverso la prestazione che c'è stata anche all'Aquila, dove abbiamo fatto un'ottima partita e dobbiamo continuare su questa strada. Visto il calendario, potrebbe questa essere la partita del sorpasso? Io il calendario sinceramente so che c'è una partita importante venerdì, però è una partita che a me non interessa. Per adesso io voglio fare la corsa su me stesso, sul teramo, perché il teramo deve guardare solo il teramo. Poi vedremo, però noi stiamo pensando solo alla spalla. L'aggancio c'è già stato, quindi se la Scuoli dovesse pareggiare vorrebbe interessarvi fino a un certo punto. Magari la sconfitta che... Una sconfitta che però rilancierebbe il Pisa, forse il Pisa secondo me è la squadra più attrezzata, è meglio un pareggio, almeno il Pisa comunque rimane un po' più sotto, però ripeto, noi dobbiamo guardare in casa nostra. E che risposta di pubblico vi aspettate domenica? Una risposta l'abbiamo avuta già all'Aquila, che è veramente stato emozionante e piacevole vedere questo teramo seguito da tutti i suoi tifosi e spero che in casa ci diano una mano che ci hanno sempre dato, perché comunque la gente è sempre venuta e ora che comunque inizia a farsi più bello non serve male avere qualche gente in più.